allora posso prego a ricerzo allora dopo rivo ai banes che sono tutti messi ad aspettare al barco alla fine sono con gianni fino al trentatresimo spunto spuso i banes roma tre passaggi di seguito non sto scherzando ce l'ho fatto gli ultimi due anni dove c'è c'è giose di nanzareth a roma ha perso tre derby su quattro gli ultimi due terbi la roma non ha fatto un tiro in porta e non sto scherzando c'è la roma in certo dato che non ha fatto un tiro in porta dopo di che i banes e la terza volta fa una coglionata pazzesca perché comunque secondo me sul primo l'arbitro poteva un attimo a munirlo al senso verbalmente c'era l'ottavo minuto insomma che poteva starci anche la munizione però qualche volta a gusto c'è stato di richiamo comunque dopo di che aspetta la seconda posizione legittima non lo sa quindi fa un errore grossolano detto questo valire leva di balla al primo tempo la roma non gioca più a pallone tante volte le squadre stanno in dieci ragazzi gli mancava oggi immobile besino all'andata di mancava immobile e savi ci aveva provvedendo e con la febbre e la roma pure oggi non ha fatto un tiro in porta l'unico coltivo forte quello che è fuori gioco io dico che si può giocare un po a pallone la roma ha fatto e finisco ha fatto entrare sciaravi ha fatto trovare ebra ma ha fatto tale matic cioè non è che ha fatto entrare 333 primavera come come si dice è insomma un po di calcio va visto di balla sostituita al primo tempo oggi oggi male anche secondo me formazioni iniziali sostituzioni pari ma pellegrini e pebre c'è una polemica che dopo andiamo a vedere del siberiano che abbiamo invitato potrebbe entrare pregoste per favore ha detto che ha la febbre non so se credo li prego dobbiamo fare un approfondimento tolto ormai bagnez che è collaudato ormai in due anni tre derby su quattro condizionati dall'ingenuità dalla zero personalità no e dalla scarsezza mentale che c'è un giocatore come bagnez tolto questo andiamo prima dall'espulsione arriviamo dopo l'espulsione allora prima dell'espulsione c'è da riproverare una cosa grande alla roma da parte soprattutto di alcuni giocatori e lo scarso anzi il nullo scarso e nulla atteggiamento avuto nei primi 32 minuti ed è inaccettabile che qualche giocatore scenda in campo senza mordente in un derby che non c'è bisogno non bisogna nascondersi a chi ti riferisci ste e diciamo che la sul reparto avanzato ce ne sarebbero tanti dove c'è se potrebbe chiacchiere apparecchio lì davanti ma ci puoi dire c'è un alert di dell'imello grazie ragazzi quindi dicevo scarso atteggiamento nullo e soprattutto in questi primi 33 minuti dico che che poi vale per tutti 90 e vale per tutti i derby i derby li deve giocare li devono giocare soltanto giocatori che hanno veramente mentalità ma soprattutto la personalità per poter giocare un derby questo nei primi 32 poi passiamo dopo la cazzola di bagnez e arriviamo no meno male al secondo tempo al secondo tempo inverosimilmente no vengono fatti i cambi tardivi perché ebram e matic potevano entrare comodamente a inizio primo tempo perché dico ebram e matic ma soprattutto matic perché piaccia o no matic ad oggi è l'equilibratore del centrocampo della roma e se io mi vedo un prove del con 39 di febbre in porta che stringe i denti e ogni tre per due parte qualcuno dalla panchina dalla lascia gli va dall'acqua con le con le vitamine per tenerlo in piedi vista la febbre e io mi vedo spostare un cambio invece di farlo al primo a inizio secondo tempo mi viene fatto a un quarto d'ora della fine perché giovedì c'aveva la diarea a me mi ero del culo a me mi ero del culo però io ti dico secondo me è un po troppo riduttivo parlare di giocatori mordenti ma il derby l'avete perso giovedì e l'ha perso l'allenatore vostro allenatore vostro che parla della lazio fa la battutina fa la cosa ed oggi i giocatori in campo dimostrano che poi alla fine ci stanno anche gli avversari perché la lazio non ha fatto una grana una gara diciamo semplice fatto una gara tosta ed è stata brava a calarsi nel match poi i bagnes voi parlate di scarsezza mentale cioè i bagnes e scarse a pallone fa uno stop sull'espulsione che gli va a fare quattro metri alla palla io ne faccio fare tre se faccio quello stop ma un giocatore del genere se tu lo trasporti nell'area nella metà campo avversaria è un giocatore che è scarso se tu lo trasporti nella tua metà campo e gli fai difendere con due linee che deve coprire mezzo metro di giocatori diventavano capitolo a parte per mancini che si è rivelato sempre forza roma grazie tom ecco qua ecco qua ragazzi quando c'è un al non lo posso interrompere tom diceva e beat per l'esperto camegio ti chiedo perché c'è le parole al veleno di romagnoli e anche quelle di luiz alberto riferite a quello finisco vuol dire che la roma doveva finire 9 perché mancini è un miracolato di dio aver finito sta gara fa quattro falli da ammoluzione anche cataldi ora doveva essere però abbi pazienza sono contento che stai felice che stai messo occhiali a g morison noi siamo tutti felici però abbi pazienza non le faccio subito parlare mi arrivo finito ci metto un secondo però tu dici che la roma l'ha perso di giovedì quando il primo a parlare del derby il tuo allenatore che caga il cazzo in conferenza stampa che ti smerda i soldi spetti per il tuo mercato estivo parla che vengono tutto sul derby fa le manna le frecciate a murigno non mi sembra qual è una frecciata camminata a murigno perdonami perché valla a vedere la conferenza stampa non ha mai parlato della roma ha lanciato la frecciatina a murigno ha parlato di vincere il derby ha parlato di vincere il derby murigno ha fatto la battutina e poi oggi nello spogliatoio luis alberto ha fatto bene a dirglielo il sabato gli ha detto parla dopo non prima perché dopo se parli prima dopo te devi sta zitto perché è inutile che fa il gaggio ha avuto un percorso deleterio in europa ma non so cazzi di murigno non sono problemi di murigno ha risposto dopo a quello che è esternato sarri non è che sarri ha detto che non ha parlato proprio della roma ha detto se io preferisco vincere io dico preferisco vincere contro la z o contro la roma di io preferisco vince contro la roma non è una battuta è la verità è la verità perdonatemi ma che gli deve dire e poi è lui che fa la matura e io ti dirò di più fuorigno è fortunato che c'è sta un altro un attimo scusate scusate che sennò si arrabbia ragazzi io capisco tutte le vostre analisi ma in campo c'è stata pura la lazio che veniva da da che veniva da un brutto giovedì sera perché è stato per me personalmente un brutto giovedì sera credo che per molti calciatori della lazio sia stato brutto giovedì sera davanti te trovi ad affrontare la roma a due punti a due punti da te passata in europa league tu sei uscito dalla conference stanno a due punti a uno scontro champions con il milan che ha perso quindi sei quasi tra virgolette obbligato no ad andare a vincere sta partita e l'alassio fa una partita sontuosa e la fa pure prima della parte dell'espulsione dei roger ibanes che per me è giusta che ho visto qualche qualche commento anche in giro sui social per me i due gialli ci stanno ai banes e poi si può star parlando e vi dico un'altra cosa in più la roma con la con l'uscita dei banes si mette tutta quanta dietro tutta quanta dietro e per la lazio era difficilissimo trovare spazio difficilissimo e aggiungo una cosa che non avete detto murigno 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 secondo me stasera sbaglia completamente la formazione sbaglia completamente i cambi perché con l'uscita dei banes lui rimane a 4 lui rimane a 4 lui rimane a 4 no lui da 5 3 1 no ascoltami lui rimane con i due centrali che sono mancini e smolling e lascia laterali spinazzola e zalensky il cambio fermi il cambio sì chiaro ma io parlo di difensori di ruolo ragazzi ok ti dico rimane a 4 perché mente i due centrali poi abbassa cristante è vero che si abbassava perché la roma giocava basta ma sbaglia a toglier di bala io non mi capisco io veramente ragazzi se lo dico da tifoso laziale come si fa a togliere ha messo iorente nel secondo tempo caro manfre per di bala ma come fai a dire giustamente marco fermate io ti ringrazio io lo ringrazio io lo ringrazio murigno che mi ha tolto di bala minuti che parli io lo ringrazio di bala oggi 45 minuti di di bala per prestazione tecnica arrivo manfre e nell'espulsione di bagnes c'è un passaggio di di bala che non deve mai fare perché di bagnes c'è una profezia di asso nel bot da giocatore di serie c ma di bala non gli deve dare un pallone così di bala si vede a un certo punto al quarantesimo del primo tempo che perde una palla sulla tre quarti nella metà campo della roma e rimane fermo a vestemmiare davanti alla panchina di bala oggi era da levare per atteggiamento e prestazione ma di bala si sarà stancato a giocare a 50 metri dalla porta questo che stavo dicendo quello sarà pure vero comunque per prestazione è stato ma marco ma se lo fai giocare come centrocampista aggiunto ma se lo fa giocare come centrocampista aggiunto come può fare una prestazione top di bala scusa marco ma cosa stai dicendo ma guarda che di bala di bala lo faceva lo faceva anche il mediano sono due allenatori così ecco perché io ho fatto quella domanda prima d'asso a camelio a dale l'ho detto per questo sono due allenatori ma prima del trentasettesimo marco prego prima del trentasettesimo tranne un po cristante secondo me stavano giocando tutti tutti da da cinque tutti tutti cioè non come cazzo fai a giocare pia la parola non sa chi dalla allora io ti dico secondo me c'è una scelta la scelta sbagliata di formazione è zaleschi che è stato praticamente bullizzato per 70-80 minuti 90 minuti da da non è il suo ruolo da zaccagni che poi mancini mi dovrà spiegare perché non convoca zaccagni prima parlavamo di pagioli zaccagni è un mistero che non venga convocato però ecco zaleschi anche lui oggi non ce la prendiamo con lui marco non l'ho mai fatto il trentasettesimo ragazzi ma capito ragazzi però però dico ragazzi vi faccio sentire un attimo noi le prestazioni singole no dobbiamo utilizzare zaleschi oggi viene bullizzato da uno zaccagni meraviglioso fino all'altro costic e valeri da cremonese che gli avevano fatto a zaleschi valeri soprattutto però secondo me è il modulo che coscringe zaleschi ma tutta la roma cioè la roma ha iniziato giocando nella propria metà campo nei propri trenta metri e lanciando lungo però è un altro errore augusto perché se lanci lungo devi mettere ebram non puoi mettere belotti ragazzi poi ognuno ha la sua idea di calcio io fermi io sono felice e contento sono stracontento perché ho passato tre giorni vi potete immaginare su tiktok tutti che mi taggavano l'unica italiana quindi oggi io sono l'uomo più contento del mondo però se devo parlare di calcio se la roma deve giocare lancio lungo in avanti perché oggi questo la roma ha fatto un po' niente belotti magari era oggi sempre a roma no vabbè io perché ne vedo tutte ale però ti dico dall'altro lato dall'altro lato c'è stata una squadra come l'alassio che oggi ha saputo tenere il campo oggi l'alassio al netto ovviamente dell'espulsione perché ragazzi non è che ci posso fare niente hanno buttato fuori il bagno se non è che è un problema l'alassio no però aspetta e torno al volo su Zaccani Zaccani ragazzi fa un gol che è clamoroso ed è una vergogna che Mattia Zaccani non venga convocato in nazionale ma fatti i fatti tu allora raga è bello quello che è successo in campo però è successo anche di tutto fuori dal campo ma che ha detto Romagnoli? ecco allora proviamo ad andare con ordine oh io c'ero ragazzi scena è bella terza categoria proviamo a ricostruire prima c'è questa dichiarazione di Romagnoli ho fatto un passo importante nella Corsa Champions sì molto importante perché oltre che il derby è uno sconquotente quindi abbiamo vinto entrambi e non credo ci sarà il terzo con la Roma aia non c'è il terzo non c'è il terzo questa è qui hai già risposto alla prossima domanda che c'è aiaiaiaiai non è da lui di solito è tranquillo lui ah beh ma è normale dai siamo tu non mi vuoi dire i giocatori avversari ragazzi dai no ma ragazzi quello che vi dicevo prima è che tu li motivi i giocatori avversari se dici una cosa del genere poi onestamente il Mourinho è bravo a fare comunicazione per quanto riguarda la sua squadra ma i derby l'ha persi tutte e due anche prima del campo perché pure l'andata prima fece un paio di situazioni un paio di battute dopo che la Lazio era stare a retrocessa in conference perché non è un caso che la Lazio perde a Feyenoord e a Alkmar tutte e due in Olanda e il giorno dopo e la partita dopo c'è il derby tutti contenti e lui lancia la frecciatina i giocatori i giocatori se le ricordano certe cose beh ragazzi ma è una battuta ci può stare ragazzi cioè io leggo pure la chat ma è una battuta è una risposta è sfottoso e se le fanno pure questo è finito dai io guardo i derby da 87-88 sono sempre stati ma sì ma lo sfottoso è sempre stato non è che tocca ma ci sta dopo e ci sta prima io non credo che un giocatore della Lazio o della Roma se perde una partita in Coppa nello stesso giorno in cui l'allenatore avversario vince ma non gli stanno a sentire ma che gli frega ma ragazzi c'è un dato pensando a quello che dice però pure Isai glielo dice sì però ragazzi vi do un dato che a me personalmente oggi fanno la domanda a Sarri e questa cosa io non la sapevo la Lazio non vinceva non solo due derby nella stessa stagione da parecchi anni ma non lo faceva con zero gol su B la Lazio in due derby ha preso zero gol sono 50 anni e questo da maestrelli se non vado errato 72 ok 72-73 è difficile però questo è il dato che vedevi Fragli Flett questo vi sto dicendo scusate ti devi pensare è merito della Lazio stiamo parlando della seconda miglior difesa del campionato la Lazio non è che prende infatti è nel oggi la Lazio questo Marco stiamo parlando di una fase difensiva straordinaria in assoluto scusate però volevo capire vai poi volevo capire cos'era successo dopo però perché è l'unica cosa ti chiedo a te dopo c'è stato un parapiglia a fine partita l'arbitro mi sembra che abbia espulso Cristante e marzo ah quello quello non lo so Manfredi anche oggi se lo spuso è un Santos della panchina e Banes che ha fatta la cazzata Mancini e che è squalificato Cristante le botte c'è ogni forza pure Marocchi ha detto Marocchi ha detto che lo staff tecnico ogni partita se fa spelle non esiste ci hanno mandato questa la Fuccina ragazzi che tra l'altro punto esclamativo Fuccina visto che siamo quasi in 8000 è il gruppo dove siamo tutti noi ragazzi entrate trovate tutti i video sempre prima punto esclamativo Fuccina in chat vedo di aprire la chat se è chiusa prediction di Asso speriamo che Banes ci fa il cazzo del favore e non fa cazzate anche perché ormai penso che ci ha preso capito il Banes ci ha preso il nulla osta ci ha preso già ne ha fatte due le cazzate ai derby due due ne ha fatte le cazzate speriamo che capito il suo giro il nulla osta non l'ha preso per fasselo da solo ma magari per fagli il gol tra l'altro sulla Fuccina ci sono visto che oggi uno aveva predetto lo 0 a 1 l'1 a 0 della Lazio e lei ha detto ma ho visto uno screen prima non mi ricordo è attivo allora allora ci sono anche le parole di andiamo su quello che è successo dopo ah scusa no no che presunta ci sono le parole di Luisa Alberto pesantissime anche allora allora facciamo tutto con ordine Lite Murignolo Tito negli spogliatoi che ti guardi e la risposta di Lutito dovrebbe essere stata che guardi te chi sei e in più sembra che Romagnolo abbia esultato davanti al spogliatoio della Roma e rissa qui dicono con mancini nudo adesso io leggo le articoli e poi non so cos'è successo in questo allora io ho ascoltato tra Murignolo e Lotito praticamente ho sentito un parapiglia cioè un bociare e ho visto subito che partivano gli uffici stampa sia della Lazio che della Roma e poi a un certo punto ho udito Lotito che diceva ma come io cerco di portare via i miei giocatori e tu mi dici che cazzo guardi ma tu chi sei io non avevo capito a chi si riferisse però presumevo che era uno della Roma ecco poi a un certo punto Lotito è uscito insieme agli Stuart e quant'altro hanno chiuso la porta dello spogliatoio che divide tra la spogliatoio e la mixzone e Lotito è andata ad aprirla e gli faceva ma ancora che a me dici che cazzo chi sei che cazzo vuoi che te guardi e poi come direbbe il cerbero no poi si è ricostruito che praticamente mentre passavano comunque di fronte si sono incrociati con Murigno e c'era Luiz Alberto è partita qualche parola e alla fine Murigno ha detto ma tu che cazzo guardi e lo dito diciamo che da quel punto di vista ha risposto ecco però diciamo la scena di questa presunta lì la rissa tra Romagnoli e Mancini no quella di Romagnoli e Mancini non lo so scusami dopo che esce da lì come si chiama Luis Alberto lascia questa intervista si esatto partita che cosa che cosa sta succedendo da quelle parti Luis perché abbiamo visto abbiamo sentito un po' di rumori dal tunnel no il problema è che quando si parla prima di una partita dopo si si perde deve stare in sito allora hanno parlato troppo come sempre fanno prima e adesso si hanno sentito inculato e devono stare in sito così di semplice hanno parlato come fanno sempre prima hanno parlato troppo come fanno sempre prima e adesso devono stare zitti li abbiamo inculati